Adesso faccio tre anni in bocca al lupo. Ciao, sono Martina, otto anni e faccio twirling da tre anni in bocca al lupo. Adesso faccio nove anni e faccio twirling da tre anni in bocca al lupo. Adesso faccio twirling da un mese e voglio dare un in bocca al lupo a tutti gli studenti della Nazionale.